Inter, Di Marco, sogno di diventare una bandiera. Il Napoli principale rivale. Il terzino nerazzurro in esclusiva, il fatto di divertirsi. Lavorare forte e lavorare bene è il nostro segreto.Federico Di Marco ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sport Mediaset dell'ottimo inizio di stagione dell'Inter. Protagonista sia in campionato che in Champions League. Il fatto di divertirsi, lavorare forte e lavorare bene è il nostro segreto. Stiamo facendo bene, possiamo fare ancora meglio. Sulle rivali per lo scudetto, sicuramente il Napoli perché ha vinto l'anno scorso, poi ci sono Milan e Juve, lotteremo tutti fino alla fine per l'obiettivo. L'amore per l'Inter, bandiera? Spero di sì, è il mio sogno. Il mio sogno è giocare nell'Inter e non vedo alcun problema da qui in avanti. Federico Di Marco in questo inizio di stagione.